Buonasera a tutti, grazie mille per la vostra presenza al primo evento collaterale organizzato nell'abito della mostra Creature Fantastiche. Questa sera ho l'onore di presentare Camilla Nacci dello studio d'arte Raffaelli che sarà diciamo con lei che avrà l'arduo compito di intervistare gli artisti invitati questa sera, Ivan Zanoni, Davide Aronangeli e Willi Kinner che sono prestati ad un'intervista quindi si sottoporranno ad una serie di, non è così, la sto mettendo giù effettivamente un po' d'ansia, no, si sottoporranno ad una serie di domande diciamo che indagano la loro opera il loro percorso artistico e diciamo le loro opere nell'ambito generale ma anche della mostra quindi lì perché sono stati invitati, qual è il rapporto tra le loro opere e il percorso espositivo. Oltre agli artisti a Camilla Nacci presento anche Marcello Nebel che con me ha, sono la curatrice della mostra ma io amo sempre dire che il mio lavoro è il risultato del lavoro mio, dell'impegno mio ma anche delle persone della squadra che mi affianca e in questo caso ringrazio Laura Paternoster dell'Ufficio Cultura del Comune di Cles e Marcello Nebel che con me ha collaborato per tutto il percorso della mostra quindi a crescere questa creatura e adesso appunto a farla camminare un pochino con le sue gambe sarà poi eh il adesso non mi ricordo qui il calendario l'abbiamo scritto noi ma non mi ricordo la data l'undici agosto giovedì undici agosto la serata in cui io e Marcello Nebel racconteremo eh tutto il percorso di costruzione di questa mostra eh diciamo le premesse e poi anche gli scopi gli obiettivi e e le finalità ehm ecco io eh lascerei forse già eh la parola a Camilla Nacci per poi durante eh diciamo la l'intervista che suppongo arriverà anche a me Marcello eh raccontare soffermarmi su quelli che sono stati stati tratti salienti appunto di questa mostra quindi ringrazio tutti voi ringrazio Camilla Nacci anche eh gli artisti e Marcello Nebel e direi di iniziare formalmente questa serata. Bene grazie Lucia grazie a voi eh che appunto avete partecipato numerosi stasera e sarà più che un'intervista una chiacchierata in realtà e appunto con Villi e David ci conosciamo da molto tempo eh data la collaborazione che c'è con le gallerie Ivan ho avuto il piacere stasera di di conoscerlo anche se appunto il lavoro lo 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 conoscevo già quindi ci saranno alcune domande specifiche per ciascuno di voi alcune domande invece che vi porrei generalmente proprio per mettere a confronto come vi siete approcciati a a questa mostra in particolare ma anche eh alle opere e al tema della mostra che eh comunque è ricorrente nel lavoro di di tutti e tre ed è appunto un tratto comune. Altro tratto eh peculiare che eh senza farlo apposta eh lavorate tutti e tre con la scultura e con mezzi e materiali diversi ma tutte e tre legati molto alla natura. Quindi eh Villi principalmente con il legno, david principalmente con la cera e Ivan con il ferro. Quindi tre materie prime forti eh che magari caratterizzano anche il lavoro poi ne parleremo insomma anche di questo. Ehm Lucia eh subito eh appunto hai anticipato che ci sarà una serata specifica dedicata al racconto di questa mostra eh però per fare un'introduzione generale eh mi piacerebbe farti una domanda su eh proprio sul fatto che questa eh forse più di altre mostre qui a Palazzo Assessorile delle delle edizioni degli anni precedenti è in qualche modo site specific perché l'ispirazione la primo ehm così la prima suggestione di questa mostra arriva proprio da questa meravigliosa sala e da altre. Ci vuoi raccontare? Sì. Allora eh è vero. Site specific di solito si si dice per un'opera. Quello che ci piace pensare è che in sé questa mostra è un'opera all'interno di una grande grande opera eh costruita diciamo in tempi molto eh più antichi e affrescata anche nel appunto parliamo della eh metà del sedicesimo secolo in particolar modo qui dove siamo noi e anche al piano eh superiore dalla bottega appunto di Marcello Fogolino e Marcello Fogolino stesso gli affreschi sono attribuiti proprio alla mano di eh Fogolino e ovviamente Garzoni al seguito. Cosa abbiamo fatto? Lo dicevamo prima a Verginer eh con Marcello abbiamo fatto come dei forestali abbiamo fatto un vero proprio censimento degli animali all'interno di Palazzo Sessorile quindi abbiamo fotografato tutti gli animali e abbiamo sottoposto questo censimento questo elenco eh di eh animali per non ripetermi a eh curato no curatori a galleristi in questo caso anche a te e diciamo eh prestatori privati soprattutto enti museali ricordiamo eh e questa è anche l'occasione per ricordare tutti coloro che hanno collaborato a a creare questo percorso prestando le opere quindi il Mart la Fondazione Museo Civico di Rovereto eh prestatori privati abbiamo avuto un enorme supporto dell'Associazione Antiquari Milanesi grazie a diciamo la il primo passaggio quindi il fatto che Marco Cattani del portale Antichità di Clessa ha creduto fortemente nel progetto del progetto e ci ha spalancato la porta verso questa associazione che ha aderito eh con una risposta impressionante prestando numerosi pezzi che che vedete sotto da Mantegna a Bernardino Deo il maestro della fertilità dell'uovo artisti pittori che non è così comune vedere che però ci hanno permesso anche di instaurare una serie di dialoghi con opere d'arte contemporanea e moderna quindi faccio un passo indietro con Marcello e poi lascerò la parola anche a lui abbiamo eh tentato di capire come potevamo costruire questi dialoghi tra arte antica tra il il palazzo stesso e eh arte contemporanea e pare stia piacendo e questo diciamo voglio dirlo perché eh è molto importante per noi avere questa risposta positiva e oltre a questo stavo pensando e ragionando a a quello che volevo dire importante il tutto è partito da una come dire una sollecitazione da parte dell'amministrazione comunale di cless il sindaco e eh diciamo il comitato scientifico che il sindaco che ha anche eh diciamo la competenza alla cultura ha costruito quando si è nuovamente insediato eh si dice insediato quando non è proprio forse un un termine giusto è stato riconfermato come sindaco eh voleva trovare un nesso logico tra mostre palazzo e territorio quindi ci siamo interrogati e sono state calendarizzate le mostre da l'anno scorso fino a a quando eh finirà appunto la sua legislatura e tutte queste mostre hanno un collegamento forte con il palazzo o con il paese in questo caso appunto eh lo lo si può vedere e intanto che raccolgo altre idee passo la parola a Marcello Nebel se vuole aggiungere qualcosa e poi in caso ti do anche un paio di spunti Marcello sì eh il uno spunto è proprio quello legato al rapporto se vogliamo tra l'interno del palazzo e la mostra interna e quella che è l'installazione eh di eh che popola un po' tutto tutto class e che si vede da lontano è proprio una mostra che attira l'attenzione da lontano e quindi volevo chiederti un po' il percorso che è stato fatto per trovare questa connessione e se hai qualche non so qualche aneddoto qualche curiosità legato proprio immagino non sia stato facile ehm anche trovare eh il percorso studiare il percorso allestire anche una mostra del genere che eh oltre appunto a a tutto quello che è il percorso classico all'interno si estende un po' in tutta in tutto il paese in tutta la città non mi sono preparato però per questo dovevi darmi prima un bigliettino mannaggia lì sì invece possiamo dire che Billy è passato in galleria e ha avuto il pizzino esatto no scherzi a parto buonasera a tutti sì la mostra eh di quest'estate forse per la prima volta è una mostra e ripeto forse quello che ha detto Lucia un attimo fa per volontà dell'amministrazione legata fortemente al territorio e al palazzo e per la prima volta esce dal palazzo entra nel centro storico e occupa anche parte del centro storico nello specifico la piazza Granda il il corso Dante fino alla chiesa arcipretale e all'esterno la scelta è quella di puntare su questi questi animali colorati e sovradimensionati e anche per questo fantastici di Cracking Art di questo collettivo che lavora con questa plastica rigenerata e che cerca di dare dei messaggi molto forti legati all'ambiente alla natura rispetto della natura rispetto degli animali e cerca di comunicare anche con gli animali scelti all'interno anzi all'esterno nelle piazze insomma cerca di comunicare dei significati simbolici eh molto forti correlati agli animali gli animali che ci sono nelle piazze quelle di Cracking Art sono sti scelti dal collettivo Cracking Art assieme a Lucia e a me e a dire il vero ad altre persone perché poi il gruppo di lavoro che che ha lavorato attorno a questo progetto non solo alla mostra ma appunto anche al progetto esterno è un gruppo di lavoro molto molto numeroso perché potete ben immaginare abbiamo in questa mostra se non erro quasi un centinaio di di pezzi più tutti gli animali all'esterno e quindi è sto un bel da fare diciamo così e come abbiamo scelto l'allestimento esterno o l'allestimento all'interno è libero sono libero perché qua ci sarebbe da parlarne per ore 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 e quindi cerco di invece di essere molto breve per dire e ripetere una cosa che mi diceva sempre Maurizio Scudiero nella scorsa mostra quella su De Pero che in un palazzo così la regola che non c'è nessuna regola in realtà cioè un palazzo del cinquecento come questo è molto difficile da allestire molto complesso perché noi qui non possiamo prendere le pareti e fare come al marte spostarle o toglierle noi qui dobbiamo adattare sempre qualsiasi mostra qualsiasi allestimento chiaramente a un palazzo che ha cinquecento anni e che va rispettato in tutto per tutto quindi rispettato a livello di chiaramente di affreschi di pareti che non devono essere celate e chiaramente a livello poi di distribuzione delle opere all'interno del palazzo quindi l'allestimento inteso anche come scelta dei pezzi e sezioni della mostra è sempre un po' figlia del palazzo cioè noi dobbiamo sempre confrontarci con il palazzo e poi decidere il numero delle sezioni in base alle sale in base al numero di sale e alla tipologia di sale quindi l'allestimento stesso e la struttura stessa della mostra è veramente più che figlia nostra è figlia del palazzo che ci guida e ci obbliga a delle scelte molto molto particolari ma mi fermo qua ce ne avrò miliardi di cose da dire ma ecco no potrei forse dire questo che ormai da tre anni dedichiamo la saletta che c'è qui dietro a un'opera particolare che non è forse l'opera simbolo ma è un'opera che sicuramente piacerà a tutti mettiamola così che è il il quadro di Antonio Ligabue con la Volpe è un'opera mi pare degli anni 50 53 54 che abbiamo deciso di mettere in quella sala la mostra per esempio dello scorso anno sul ritratto aveva l'autoritratto di balla per dire o nella mostra di due anni fa le cinque chiavi gotiche e altre meraviglie che era dedicata al paese di Kles alla storia dell'arte di Kles avevamo creato una 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 sala per esposizione diciamo così temporane in cui inserivamo ogni mese un'opera d'arte molto importante del nostro paese e quindi ecco questa volta abbiamo scelto Ligabue però all'interno della mostra come avrete visto forse già vedendo la mostra o leggendo semplicemente il Depliant sono opere eh importantissime che meriterebbero tutte ristare là dentro insomma soprattutto le vostre le vostre di sicuro ecco per rispondere in specifico al perché abbiamo scelto eh di esporre di di chiamare il collettivo Cracking Art innanzitutto forse come eh non tanto provocazione anche se dall'esterno pare eh sia sia questa ma eh più che altro per tentare di avvicinare la comunità soprattutto la comunità più piccola i bimbi o io amo sempre dire il bambino che non è uno di noi a eh opere fantastiche e che non hanno anche se hanno un significato simbolico di per sé come animale e dato ancor più ricercato ancor più da Cracking Art e lo si può vedere leggere nei vari totem che abbiamo eh messo qua e là a supporto ma in sé sono opere che mh che sono fantastiche proprio per dimensione e colore e qui mi collego dicendo anche eh sottolineando anche quella che potrebbe sembrare forse una forzatura per alcune opere che abbiamo eh inserito all'interno eh di animali che non hanno nulla di fantastico la volpe di Guttuso cioè la volpe non è un animale fantastico e eh come dire mi è spartito tutto grazie supporto il baffalo stesso ehm facciamo così ecco ecco grazie ehm appunto non 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 sono animali eh come dire eh fantasiosi o dei draghi ehm che riportano a un altro tipo come magici un altro tipo di letteratura mitologica ma sono di per sé fantastici proprio per il loro significato intrinseco e mi ricollego quello che diceva proprio la sorella di Marcello Nebel che segue tutti i laboratori di Batiboy Gallery qui di fronte e diceva proprio che la mostra presente appunto nella Batiboy Gallery di Valentinelli presenta del diciamo ha di per sé come soggetto il cane e il cane non è un animale fantastico ma in sé è fantastico proprio per la sua fedeltà nei confronti dell'uomo per tutti i significati che ha nella sua storia e poi nell'arte e via dicendo quindi eh non vuole essere una forzatura ma proprio un'evoluzione del discorso che ci ha permesso poi di collegare le opere di questi eh altri artisti importanti contemporanei ecco allora allora mi ricollego diciamo a a questo aspetto che è molto bello quello che hai detto sia sugli animali eh reali visti come animali fantastici e poi ci ritorneremo ma soprattutto a a questo aspetto di interazione con eh il pubblico e quindi in un certo senso l'interazione intrinseca che c'è tra l'uomo e l'animale e qui entrerei nel vivo e chiederei agli artisti eh a tutte e tre di rispondere alla stessa domanda eh ciascuno con la sua sensibilità alla sua suggestione eh qual è nel vostro eh lavoro il senso di questo eh attaccamento profondo innanzitutto alla natura in generale e poi a al tema degli animali ecco che che caratterizzano la la produzione di tutti voi e qual è la relazione che c'è proprio tra tra l'uomo e l'animale sia in termini di eh eh duali diciamo sia in termini di identificazione quindi magari se avete anche un animale preferito un animale guida e insomma eh attendo un po' villi cominciamo da te che sei il più vicino al secondo microfono vorrei ringraziare per l'invito eh sono venuto con piacere perché devo dire non avevo ancora visto la mostra e era ora venire a vedere la mostra insomma eh beh logico io lavoro molto su cioè mi interessa molto il tema dell'uomo del dell'uomo per sé o del e quindi ci sono per forza arrivato anche all'animale perché noi siamo legati agli animali credo da dall'inizio della nostra storia sempre siamo sempre legati quindi la tematica che che io ho spesso sono molto nel figurativo molto temi anche qualche volta psicologici o anche altri temi eh l'animale è forse il soggetto anche il simbolo più adatto per esprimere certe certe cose eh non l'ho scoperto io basta pensare che già l'oroscopo è formato da da non so quanti animali insomma senza senza volerlo siamo siamo molto siamo molto legati quindi nel mio lavoro eh eh logico io sono molto legato alla natura vivo in un ambiente naturale eh ho un materiale che è anche molto naturale cioè non togliendo agli altri materiali però il legno è è molto cioè è proprio proviene proprio dalla natura senza 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 grande manipolazione quindi eh riassumendo eh non non potevano non potevano passarci eh attraverso gli animali facendo certe mostre o o o certi discorsi perché mi erano necessarie insomma è tutto david 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 mi ricollego un po' a quello che hanno detto gli altri è molto complesso perché l'animale come l'arte come il rapporto con l'uomo è antichissimo e ci porta veramente indietro quindi l'animale è una cosa come altri altri temi che mi interessano eh mi porta proprio alla realtà no? eh a volte eh anche l'incontro stesso con l'animale è una cosa fantastica è una cosa sfuggevole è una cosa che ti dà molto ecco e l'animale è molto bello e si presta bene all'essere diciamo preso come come soggetto e l'animale è un'animale è un'animale è un'animale di cui noi a volte abbiamo paura a volte invece lo amiamo e ci sono tanti tipi di relazioni a me piace molto il serpente perché perché si ci fa paura ma ci incuriosisce e ha una forma molto bella e come scultore come modellatore si presta bene anche tecnicamente ecco e poi mi piace molto ecco si segue proprio le forme in questo caso lo accosto al corpo femminile e quindi c'è un rapporto diretto di una donna che tiene un serpente ecco parlavo della realtà perché anche i miei lavori non cioè non cerco titoli poetici o magari è una cosa che ho dentro di me ma anche nei titoli sono molto diretto ecco quindi in questo caso io presento una donna col serpente e una è un caprone e questo palazzo è molto bello l'ho già conosciuto per altri progetti insieme a Marcello e altri e sicuramente si presta ad accogliere vari tipi di opere insomma e la mostra è fantastica davvero mi piace molto sono contento e grazie ecco e anche qua appunto c'è un bel dialogo tra gli animali quelli veri quelli che poi l'uomo ha cambiato ha mescolato a volte l'uomo vuole diventare un animale ad esempio a volte invece l'animale vuole diventare un uomo sono tanti temi interessanti ecco ecco grazie passiamo a Ivan buonasera a tutti la domanda era come mai hai scelto di fare gli animali io parto da dall'essere figlio di Luciano Zanoni che invece fa gli alberi la conseguenza è stata uso la stessa officina uso lo stesso materiale come mi distingo e mi sono distinto facendo gli animali e l'altra domanda era hai un animale guida? penso di sì il primo animale che ho fatto è stato un passero grande così un momento magico ho fatto questa cosa e mentre la costruivo andavo avanti e non mi rendevo conto l'ho finita e ho detto cavoli ho fatto qualcosa che funziona ho lavorato per due anni facendo delle schifezze incredibili cercando di ripetere quel 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 soggetto quella quella scultura che era stranissima cioè era delicata ma anche rosa se vogliamo in un certo modo perché c'era questa parte molto grossa e una parte molto 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 delicata io ho fatto anche orificeria oltre che sono fabbro e e poi da una cosa una cosa ha tirato l'altra e sono andato avanti sempre a fare animali ecco a differenza degli altri i presenti io sono quello che non fa l'uomo io non rappresento l'umano voi rappresentate vi confrontate siete attratti affascinati dall'essere umano io sono quasi repulso dall'essere umano nella mia adolescenza non ho avuto un buon rapporto con l'essere umano ho avuto un rapporto pessimo con i miei simili e ho preferito quello che mi era distante ma che però respirava e mangiava esattamente come facevo io e cosa sono diventati sempre tornando all'animale guida all'inizio erano solo degli esercizi di stile e se guardiamo i miei vecchi lavori erano solo quello a parte quell'uccellino certi altri dicevano veramente poco poi hanno cominciato a diventare un po' delle metafore e quindi sì ci ricolleghiamo all'animale guida infatti faccio un esempio banale quest'anno ho preso mi sono messo a costruire l'anno scorso mi sono messo a costruire un corvo doveva servire per la mostra che è stata fatta al Palazzo delle Albere quella dedicata a Mario Rigoni Stern anche esso un uomo che se vogliamo rifugiava l'umano dopo tutte le sue vicende belliche e preferiva la natura questo corvo è venuto male questo corvo non andava da lì in avanti in effetti il corvo è un prepotente e se lo guardate bene è prepotente gli animali li usiamo li hanno sempre usati per trasmettere dei simboli rappresentare dei 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 riassunti delle delle cose che si volevano dire ecco il corvo è un prepotente sapete chi l'ho associato? a mio nipote mio nipote è un prepotente mio nipote è Jacopo è un ragazzo divertente ma a certe volte è prepotente l'ho preso e gli ho fatto una fotografia che poi ho girato subito l'ho girata a te alla Lucia non lo so l'ho girata alla alla Francesca Padovano che mi ha subito chiamato e ha detto ma come hai fatto a fare questa fotografia? ha una botta di culo cara ne è venuta fuori una fotografia bellissima l'ho girata anche a Lorenza Salamon non me ne vuole era la mia gallerista di Milano che mi ha subito chiamato e mi ha detto continua così fanne ancora e dedica ancora queste cose ai bambini e torniamo agli animali guida allora ho mollato questo corvo che non funzionava per la mostra del rigone esterno e ho dedicato una cosa a mia figlia ho fatto una lince e poi ho fotografato mia figlia con questa lince di ferro ed è venuta fuori Benone ho adesso un problema devo farlo per mia nipote Camilla e devo andare avanti così quindi il mio rapporto diciamo che è un po' privilegiato in questa mostra perché partivo partivo comodo partivo comodo in effetti le cose che abbiamo utilizzato in questo caso non c'è niente di dedicato ma sono cose che erano già già a casa già costruite e poi che dire sul mio lavoro il mio lavoro è un lavoro strano all'inizio sono partito con questo passero con queste cose e non riuscivo a capire se dovevo usare il pieno il vuoto e poi alla fine ho preso una cosa che mi ha sempre affascinato fin da bambino mi sono messo a fare le armature qui si vede poco c'è forse il serpente che può ricordare questa cosa ma se prendete una cosa che non è qui che può essere il toro o può essere la lince sono degli spazi vuoti fate conto un'armatura come un'armatura medievale che di solito rappresenta l'umano e io invece la metto adosso la metto fuori dagli animali faccio degli animali che sembrano armature perché non lo so perché voglio fare voglio continuare a essere fabbro e faccio il fabbro e sono molto amo molto il fatto di definirmi un artigiano più che un artista a volte le cose ricapitano per caso e sono andato avanti in questo modo non le ho mai riempite tranne che per le noci ecco una cosa che non è animale mi fa molto piacere perché tutti e tre avete anticipato dei temi che pensavo appunto di approfondire successivamente e quindi mi ricollego un pochino a questa ultima suggestione dell'animale guida che è una cosa che mi capita molto di di recente di andare in montagna incontrare animali e mi è stato suggerito appunto da un amico che conosce molto bene il mondo animale molto più di me di andare a cercare il significato del primo animale che incontri durante la giornata quindi ho preso un po' questa abitudine di ormai abbiamo accesso immediato a tutte le informazioni per cui semplicemente su google cerco non lo so raganella arborea e vediamo un po' quello che è il significato e quindi riparto da te Ivan che hai appunto accennato a questa cosa del simbolo del legame che si può avere con un animale indipendentemente da quello che è il vostro operato artistico ma quella che è la storia dell'animale concentrandoci magari sugli animali che ci sono qui in mostra che tra l'altro nel vostro caso vi siete seduti vicini siete stati accostati sia per il serpente sia per adesso quello di Davide è un caprone il tuo è un ariete però in ogni caso sono stati avvicinati ecco diciamo quindi magari David del serpente ci hai già parlato ci parli un po' più tu del serpente e tu del caprone però rispetto a quello che è il simbolo o comunque magari la leggenda legata a questo animale qual è se c'è ovviamente un legame con quello che poi voi avete realizzato a livello di opera d'arte ecco perché è il serpente sostanzialmente allora quello è un lavoro parlando del serpente quello è un lavoro che era stato fatto per una gara su invito si trattava della la realizzazione della scultura che avrebbe vestito la rotatoria dell'uscita di Trento Sud e bisognava come temi ragionare sulla sostenibilità su una natura incontaminata però contemporaneamente anche sulla strada sul movimento delle persone insomma ci avevano messo dentro di tutto la rappresentazione come la facevi rappresentare il Trentino il territorio la pulizia del territorio eccetera eccetera alla fine dopo tanto pensare ho detto faccio un serpente perché la strada è il cosiddetto serpente d'asfalto se vogliamo uno dei segnali di natura pulita è il fatto di avere dei serpenti che circolano nei prati perché si cibano di più con gli animali eccetera eccetera c'è tutto un discorso etologico dietro qui mi fermo non è che l'ho in quel caso scelto ho scelto di farlo per una rappresentazione su una condizione umana su un ragionamento della società eccetera diciamo che in quel caso mi è stato mi è stato come dire imposto e david invece sul caprone portatore è bello un po' anche che queste opere che ci sono in mostra siano magari in qualche modo legate a qualche altro spunto artistico qualche altro pretesto di realizzazione che non siano state fatte magari appositamente per questa mostra ma che già erano nelle vostre corde per altri motivi o magari appunto per altre occasioni sì anche in questo caso l'opera era già stata realizzata ecco vabbè il caprone perché vabbè mi interessa il tema dell'animale e io lavoro un po' per serie di lavori diciamo e in quel in quel periodo proprio frequentavo una persona con i caproni con le pecore e quindi avevo questo questa vicinanza e e quindi un po' disegnavo preparavo appunto quella che poi è diventata la scultura ecco poi mi piaceva questo fatto di di fargli portare qualcosa ecco perché anche in questo caso c'è un c'è l'animale con un contenitore e il contenitore è un altro dei temi ricorrenti del del mio lavoro il contenitore in questo caso porta contiene la la lana stessa del dell'animale ecco e quindi lui ci dona anche questo interesse verso verso il dare verso il ricevere più che altro il dare l'offrire o anche questo tema della mano con questi contenitori in questo caso è l'animale che nuovamente ci ci dà un qualcosa di di suo ecco e questo è un po' il la riflessione che c'era dietro dietro al lavoro grazie e faccio la stessa domanda a Villi che appunto in questa occasione ci porta la volpe come animale ma è una volpe particolare non è una volpe così decontestualizzata è una volpe seduta su un barile che ha all'interno una sorpresa un paesaggio sì devo dire che come preferenza ho altri animali cui preferisco cioè che mi piacciono di più la volpe l'ho fatta raramente questo è un lavoro questo che vedete qui in questa mostra è una è una realizzazione in misura più piccola di un lavoro che avevo fatto per una mostra a a Detroit dove c'era il tema after industry quindi il barile il barile l'animale l'unica cosa che rimane ancora di 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 naturale è l'animale l'uomo appunto non si vede il paesaggio è anche è un paesaggio che è nel barile è un paesaggio ancora pulito però come ho chiamato il titolo era il cielo in un buco però il cielo era veramente molto in questo paesaggio era molto nero insomma lo vedo un po' pessimistico si è un lavoro questo era un lavoro di commissione quindi sono proprio solo due due tre casi dove ho usato come animale la volpe in questo caso la simbologia del della volpe che si può forse paragonare alla furbizia o altri altri simbologi per me se altri riescono a leggere qualcosa di diverso tanto meglio ma almeno io non lo vedo in quel senso la scelta della volpe era una scelta di un animale naturale dovevo associare al barile perché tutta la mostra di Detroit era impostata sul barile sull'elemento barile quindi dovevo volevo associare la volpe al barile e quindi come dimensione anche estetica anche di proporzione la volpe era forse l'animale più adatto questo questo è il motivo della scelta i miei animali preferiti sono o il corvo o l'asino ok il corvo quindi ricorre è anche interessante vedere quanta quanti richiami ci sono esatto 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 tra l'altro invece una cosa che dicevi tu prima Ivan mi ha ricordato invece un aneddoto sull'opera che io ho prestato qui dalla mia collezione privata che è qua sotto le scale ed è un'opera di Tommaso Buldini dove la figura principale è quella della medusa tra l'altro vabbè al di là della curiosità che Tommaso è anche un artista che lavora con il video e lui ha realizzato due videoclip per con la pesce di Martino prima che diventassero famosi al festival e quella medusa lì è proprio la protagonista principale di uno dei video ed è stata la prima medusa che ha fatto e proprio l'ho sentito ieri al telefono perché l'avevo invitato ma lui arriva da Bologna e non è riuscito a partecipare a questa serata mi ha proprio detto è stata la prima medusa che ho fatto continuo a riprovare a farla e non ce la faccio e non viene più così e niente quindi anche questo collegamento che hai fatto prima col tuo primo passero col primo animale che hai realizzato mi ha fatto venire in mente questo piccolo racconto e dalla medusa passo al rapporto tra animale reale e animale fantastico e in questo caso passo magari il microfono a David perché tra voi è forse l'artista l'unico che si concentra invece su non solo su animali reali non solo sul rapporto tra figura umana e figura animale ma tu David hai lavorato molto anche con delle chimere con degli animali fantastici come i centauri per esempio e notavo prima che anche guardando questi affreschi neri sicuramente così catturato e quindi visto che il tuo lavoro è quello che forse è più legato anche alla mitologia all'aspetto anche fantastico e simbolico volevo chiederti appunto qualcosa su questo su questo aspetto su questa anche fusione a volte che c'è tra la figura umana e la figura animale indipendentemente dal rapporto tra uomo e animale ma proprio un po' nella storia nella mitologia sì come dicevamo prima si vede subito in questi alle pareti questi uomini questi corpi femminili che alcuni presentano delle code da pesce delle zampe caprine è proprio evidente no la fusione tra tra l'essere umano e l'essere animale sia del mare dell'acqua che della terra o dei cieli e sì ho realizzato dei dei centauri perché appunto questo rapporto tra me l'animale tra l'uomo e gli animali è è forte è interessante come già avevo accennato a volte noi vogliamo forse diventare degli animali o essere o l'animale a volte vuole diventare un uomo ad esempio ho alcuni lavori al Castel Pergine per una collettiva dove c'è il tema di Kafka che era uno scrittore lui è molto famoso per la metamorfosi ma ha scritto altri altri testi tra cui anche racconti e lui è proprio evidente questa questa presenza dell'animale gli animali sono protagonisti di queste di questi racconti e ce n'è uno in particolare dove c'è questa scimmia che vuole vuole diventare umana diciamo e quindi da entrambe le parti forse o in realtà non credo che l'animale voglia diventare un uomo però si presta bene come tema letterario come spunto di riflessione sì sì poi io noi gli artisti insomma è il nostro lavoro creare creare delle opere che secondo noi siano belle che abbiano dei temi c'è l'arte la vita stessa insomma secondo me cioè non c'è un tema che va bene neanche tutto va bene però come la vita è molto ricca anche l'arte lo è personalmente mi piace l'arte antica mi piace l'arte di oggi sono molto aperto ecco bisogna essere un po' critici oltre ad avere magari un gusto se così si può dire e quindi ecco gli animali sono da sempre con noi li troviamo nelle caverne noi ci nutriamo di animali purtroppo poi attualmente in questa non è un'epoca bella purtroppo per il nostro pianeta per il rapporto che noi abbiamo dopo dico io sono un artista non sono un ambientalista o poi sono un uomo e ragiono da uomo cerco di di salvarmi dall'animale ma cerco di volergli bene di rispettarlo io abito in Val di Sole abito pratico molto la natura la montagna incontro il serpente incontro il cervo l'orso la volpe e a volte è bello a volte meno insomma e adesso è un periodo estivo c'è chi va in montagna c'è chi va al mare al mare adesso ci sono le meduse abbiamo paura poi c'è la pesca intensiva insomma ci sono tante è chiaro che poi anche il tema magari dei temi di attualità rientrano inevitabilmente nel lavoro artistico perché ne siamo condizionati tutti ovviamente chi lavora con l'arte chi produce con le mani tra l'altro come come voi inevitabilmente rispecchia quello che succede intorno come tu parlavi di di Buldini di Tommaso lui come noi è un artista vivente contemporaneo giovane diciamo lavora in un determinato modo lavora col disegno col video ha una determinata sensibilità nei confronti del suo modo insomma ecco io uso la cera che è questa materia prima della natura molto delicata ma molto energetica con tutte le sue conseguenze diciamo e lui usa il ferro con questo grande calore con questo grande sforzo fisico cioè l'artista non sono tutti uguali insomma come poi le opere che presentano e mi sono perso un attimo aspetta però volevo dire ecco che il materiale che usi è di natura animale ecco adesso ho ripreso cioè oggi la cracking art fa questi animali che tutti conosciamo che ci sono familiari ma li fa intanto con questo materiale che è una plastica rigenerata e riciclata e c'è un aspetto di questo genere e poi li fa molto grandi di vari formati con questi colori accesi e c'è chi lavora col video c'è chi lavora col legno con delle abilità non da poco insomma il legno non è facile e io lavoro la cera e quello che volevo dire è che magari c'è chi lavora con dei temi più contemporanei o con uno stile più contemporaneo e che magari ha un un approccio tecnico ed estetico diverso insomma e anche quello magari ti porta anche a una tematica l'animale è un tema antico un tema profondo e quindi noi siamo da sempre affascinati no? Sì è forse stato uno dei soggetti più più frequenti appunto fin dall'antichità ad esempio qua è evidente insomma e poi l'uomo da da sempre osservava gli astri e quindi vedeva queste forme e le collegava a questi esseri familiari che erano poi gli animali ad esempio gli egiziani adoravano il poccodrillo perché perché avevano paura e perché così magari non venivano mangiati insomma e a volte diventavano quasi delle divinità o sacri in un certo senso è vero e l'animale faceva questo questo salto di qualità insomma veniva appunto adorato ecco infatti poi a tutti gli animali storicamente letterariamente in tutte le varie forme artistiche sono stati poi attribuiti dei simboli che poi non sappiamo se sono davvero corrispondenti però è anche quello forse fin proprio dai primordi dell'umanità un tentativo di attribuire all'animale dei comportamenti umani pensiamo anche alla favola classica da Esopo a tutta la tradizione poi narrativa dove l'animale viene umanizzato all'animale viene attribuito un comportamento umano e poi quello rimane così anche quando io cerco su google il significato di quell'animale arriva da lì quindi c'è anche questo legame con il presente che arriva da lontano grazie grazie a voi e adesso mi allontano un momento dalla tematica specifica sugli animali per una domanda che riguarda Villi e Ivan adesso ci saluta un attimo aspettiamo il ritorno che riguarda proprio un po' sì la materia la materia tu lavori con la cera che è appunto una materia naturale avevo accennato prima che appunto una cosa che mi ha un po' colpito che tra gli artisti che abbiamo invitato poi abbiate risposto per questa serata voi che casualmente siete scultori e comunque lavorate con materie assolutamente naturali i cui processi di trasformazione sono estremano una componente artigianale molto forte e molto manuale c'è molta c'è la mano con la cera e il ferro c'è anche il fuoco che interviene quindi c'è anche questo ulteriore elemento molto potente e primordiale e e poi ecco sicuramente poi il risultato è tridimensionale quindi si arriva quasi ad avere o una miniatura o una riproduzione a grandezza naturale dell'animale e si arriva a un risultato a volte anche molto realistico come nelle opere di Villi ma il tratto che anticipavi tu Ivan tu ti sei presentato dicendo io sono figlio di Luciano e Villi è padre di Cristiano e Matt che sono scultori quindi volevo farvi una domanda proprio specifica su sull'essere figlio di e padre di in una bottega e come questo aspetto si lega in qualche modo a un fare tradizionale a un a un passaggio quasi di segreti di padre in figlio a come tu magari hai assorbito alcune cose di tuo padre alcuni segreti e come li hai rielaborati e come tu Villi al contrario li hai trasmessi ai tuoi figli e quali sono anche le differenze tra i vostri lavori magari cominciamo da te Ivan essenzialmente un casino provate a lavorare con vostro padre era bello sapere questi punti di vista un po' entriamo nel gossip dai tra dieci anni ci ritroviamo qui con i figli di Villi e poi facciamo la stessa domanda allora beh com'è è dura è dura allora no di sicuro lavorare con un genitore è dura impari molto se sei se sei disposto a portare via molto succede in ogni in ogni tipo di lavoro che ne so uno fa l'avvocato uno fa il contadino però quando lavori con un genitore o ti scontri e succede spesso oppure cerchi di evitare lo scontro e portare via molto l'altro discorso però che ti fa sopportare tutte queste cose almeno dal mio punto di vista è il fatto di portare avanti quello che è una bottega questo discorso che può sembrare desueto medievale antico secondo me è un discorso invece estremamente nobile sarò presuntuoso però lo vedo in questo modo e lo vedo come una necessità per evitare di perdere un bagaglio importante che parte da lontano nel mio caso non è solo mio papà ma erano i miei nonni i miei bisavoli tutti i fabbri eccetera eccetera e quindi questo portare avanti chiamiamola tradizione se vogliamo è una cosa che mi toglie e mi ha sempre tolto quei nervosismi che avevo a lavorare con mio papà e li non volevo ecco sentiamo il punto di vista dall'altra parte adesso io sono proprio dall'altra parte io non ho avuto esperienza di avere mio padre era insegnante elementare quindi per niente amante dell'arte cioè non era poco interessato comunque più o meno un interesse medio mi ricordo che il primo libro di d'arte che è arrivato in casa l'ho portato io era di Manzù quindi si vede che da parte mia dai genitori dai nonni non c'era non c'era mio nonno era Fabro anche quindi non ho avuto quel bagaglio che spesso sento da chi lavora con i genitori con i figli che si sentono un po' oppressi o comunque sotto in una situazione non comoda io veramente mi sentivo la scelta del lavoro come facevo il lavoro non avevo proprio da parte dei familiari nessuna pressione ero completamente libero il fatto ancora ci ha ancora guadagnato che non avevo lo studio quindi quando ero giovane ho fatto la gavetta in diversi studi in diversi botere quindi dappertutto vedevi ogni botere aveva il suo forte e vedevi che aveva qualcosa che mancava o che non andava bene e quello per me io che non avevo il padre è stata una grossissima fortuna perché avevo la necessità proprio di non avevo il posto di lavorare e sono stato in diversi laboratori per imparare e anche per lavorare insomma quindi non avevo scelta ma è stata una almeno adesso la vedo una grossa fortuna arrivando adesso ai miei figli loro hanno anche come perché da noi c'è l'istituto d'arte hanno anche fatto come me l'istituto d'arte uno è andato uno o due anni a Carrara e l'altro perché ho due gemelli che fanno lo stesso lavoro e l'altro è andato a fare la pratica da Aaron Demetz che forse lo conoscete che è anche un artista abbastanza in zona conosciuto mi sono ritrovato da un po' di tempo con tutti e due nello studio insomma non potevo dire di no loro avevano una voglia ma devo dire anche quando erano giovani non ho mai spinto non ho mai detto non avete voglia di imparare questo mestiere forse perché io non avevo alle spalle tutte le generazioni scultori come alcuni ce l'hanno io dei miei nonni e bisnonni nessuno faceva questo lavoro quindi se i miei figli facevano un altro lavoro per me non c'era problema comunque sono arrivati nello studio avevano avuto avevano 18-19 anni quindi un'età non tanto facile devo dire il primo periodo era sì come dice Ivan un casino perché io dovevo insegnarli avevano già un certo bagaglio però io avevo certe commesse e loro le eseguivano quindi dovevo io dare una certa dritta insomma e a quell'età da giovani non è non è bello farsi dire dal padre come bisogna insomma come la via giusta insomma c'è stato spesso dei batti becchi ma mi sono sempre abbastanza ritirato non ho mai cercato di imporre ho sempre sfruttato l'occasione che il tempo gli fa capire insomma quel che io intendo insomma quel che io voglio insegnare quindi quel periodo più o meno l'abbiamo passato adesso hanno 40 anni quest'anno hanno 40 anni sono sono cioè sanno della loro qualità non hanno più dei dubbi era forse il periodo con 18-20 anni dove riesci a fare qualcosa però non non sei ancora all'altezza quindi sei sempre in un dubbio e quindi quello ti crea ancora più aggressione o insomma tensione adesso loro hanno il suo lavoro hanno le sue cioè lavorano bene anche loro lavorano con le gallerie sanno sanno del loro del loro mestiere quindi tutti e tre insomma siamo più o meno alla stessa alla stessa allo stesso livello sia io mi faccio sento volentieri una critica da loro come loro accettano una critica da me poi dopo non è detto se io gli dico qualcosa che loro lo cambiano nemmeno io cambio se non lo vedo giusto insomma ma lo vedo molto adesso lo vedo molto proficuo perché insomma c'è uno scambio sì forse da parte guardando da parte dei figli c'è forse il punto forse un po' dolente che loro si vengono spesso come si dice paragonati al padre insomma hanno anche più o meno specialmente un figlio più o meno non è tanto lontano dal mio lavoro il Mattias è forse più che ha cercato insomma sempre di rompere la simmetria o comunque di rompere ma insomma adesso più o meno tutti e tre perché siamo assieme nello studio insomma siamo abbastanza contenti di creare assieme insomma poi ci si aiuta anche a vicenda e adesso lo vedo come un fatto positivo insomma alla fine bene allora grazie per questa condivisione di esperienze io vedo tra il pubblico persone che hanno voglia magari di intervenire di fare qualche domanda quindi faccio io ho l'ultima domanda a Lucia Marcello che è in realtà la prima che ho fatto agli artisti cioè qual è il vostro animale guida all'interno della mostra se ce n'è uno specifico se c'è un'opera a cui siete particolarmente affezionati o di cui avete piacere di parlare legandola alla vostra esperienza no diciamo che non ho un animale preferito cioè oddio amo molto gli animali mitologici proprio quelli legati molto alla diciamo fantasioso la mitologia perché ovviamente di per sé sono affascinanti diciamo che tra tutte le opere anche importanti che abbiamo in mostra sono particolarmente affascinata da un'opera di un antiquario milanese di un antiquario milanese che è la la battaglia tra insetti e nanetti di Bernardino Deo che abbiamo nella sessione delle creature alate ecco quella che è molto grande è un olio insomma per me si colloca molto bene tra tutte le altre tra l'opera di Zanoni tra Maisto che adoro ma come tutti gli artisti che sono presenti in mostra soprattutto anche quelli contemporanei vini insomma da tutti sono tutti artisti che abbiamo scelto perché per quello che raccontano ma perché ovviamente ci piacciono anche perché è evidente insomma abbiamo avuto anche la possibilità di scegliere non tra artisti ma tra opere quindi insomma l'abbiamo l'abbiamo fatto volentieri ovviamente con senso critico e curatoriale quindi l'abbiamo l'abbiamo fatto ecco quell'opera quindi invito tutti ad andare a vedere anche perché sinceramente non mi è mai capitato di vedere questo artista e quindi ne vado fiera da averlo portato non è un artista come dire non dico famosissimo però è importante nel panorama artistico italiano nazionale mondiale quindi lo si vede spesso anche nelle aste quindi ecco per me è quella e poi ovviamente tutti gli artisti contemporanei non lo dico perché ci sono qui però mi piacciono insomma tutte le opere che abbiamo che abbiamo esposto grazie marcello il primo il primo era l'animale guida giusto tra quelli in mostra però tra quelli in mostra ma è anche il mio animale guida è l'orso perché l'orso è il nostro animale per noi clisiani ormai è diventato un compagno di viaggio si va in montagna quindi l'orso non è sempre sto l'orso nella mia vita da quando l'ho incontrato in montagna tre anni fa è diventato l'orso il mio animale guida perché poi incontrarlo ti cambia è stato un incontro piacevole è stato un incontro molto piacevole no ma è un incontro forte poi ti rendi conto insomma la fortuna di raccontarlo lo consigli a tutti ho perso i capelli però ho la fortuna di raccontarlo vado in montagna pensando sempre all'orso tendenzialmente in questo caso è l'animale che chiaramente crea amore paura è il mio animale guida per quanto riguarda invece le opere in mostra fermo rispetto che è veramente complesso sceglierne una o due però così proprio per amore mio direi Dürer è sempre stato un grande appassionato della sua arte e quindi avere il santo ostacchio qui nella sua prima tiratura nel 2021 è sicuramente un aspetto che questo microfono mi sa che ha la batteria da cambiare però proviamo sì però insomma avere Dürer qui è una cosa che mi ha dato particolare soddisfazione e poi visto che comunque bisogna fare una scelta direi per quanto riguarda il Novecento Melotti quindi avere le opere di Melotti che sono state cortesemente prestate da Repetto da Milano è una cosa che dà anch'essa soddisfazione perché Melotti è stato forse uno dei più grandi poeti dell'arte del Novecento insomma e del nostro Trentino e poi è onorato di avere di condividere perlomeno diciamo il nostro territorio è andato via è andato a Milano perché qua probabilmente è avuta dura però insomma è un grandissimo ecco quindi non saprei quale Melotti scegliere forse il top quello del adesso non mi ricordo se era del del 60 quello sulla destra del 68 che è molto essenziale proprio così pulito essenziale a le opere quindi adesso abbiamo anche qualche indicazione sulle vostre preferenze per poi visitare la mostra che appunto dopo la la nostra chiacchierata rimane aperta visitabile giusto per ecco e poi sentivo qui che stai lavorando a un orso no l'hai già fatto cosa stai facendo in questo momento ah il lupo ecco ecco io volevo solo dire una cosa a Villi tranquillo tra dieci anni quando torniamo qua che ci sono i tuoi figli c'è anche mia figlia che continua a dire che vuole fare il fabbro socca ecco e poi anche allora tu stai lavorando a un lupo Villi Vergine era adesso anche una mostra a bondo dove c'è un orso enorme proprio sull'altare non so se sto spoilerando troppo ma credo che molti di voi l'abbiano già già vista io purtroppo ancora no david si può fare un altro piccolo spoiler stai lavorando sui segni zodiacali quindi si di nuovo sto lavorando sul già da tempo per fortuna sto lavorando sul tema dei segni zodiacali quindi il tema degli astri è evidente anche lì il rapporto con l'animale l'uomo tutto quello che vedeva quindi comunque appunto indipendentemente da questa mostra il vostro lavoro prosegue sempre comunque toccando in qualche volta incontrando proprio in modo quasi esclusivo nel tuo caso il tema degli animali quindi adesso non mi resta che dare la parola a voi allora io sarei indecisa a me piacciono molto gli uccelli è un po' brutto dire così però mi piace molto la libertà il senso di libertà che danno alcuni animali gli uccelli volatili in generale sono gli animali che preferisco soprattutto appunto i passeri le cince quelli molto gli usignoli quegli animali molto quegli uccelli molto poetici molto melodiosi e poi se dovessi pensarne a un secondo che mi dà sempre questo grande senso di libertà il cavallo che però è un animale che si associa alla libertà ma è addomesticato è anche addomesticato quindi si sono forse mi concentrerei su questi due ecco devo ancora vederla no ma voglio vederla dal vivo i libri per bambini no quindi appunto abbiamo qui anche Antonio e vari membri dell'associazione Promart che giustamente ci siamo sentiti prima ho detto preparatevi delle domande perché sicuramente ci sarà un po' di spazio e adesso è il momento ecco la voce ce l'ho abbastanza sì ci siamo preparati ci siamo preparati però devo partire necessariamente da un'affermazione che le mostre di questo palazzo sono stimolanti quindi non è stato difficile le abbiamo frequentate in questi anni direi con una certa assiduità volendo essere attivi anche nel momento della visione delle opere e quindi ci siamo preparati perché ci piace discutere sulle cose che palazzo assessorire propone in particolare questa degli animali è assolutamente stimolante io avrei una domanda per tutti e tre però esaurirei subito questo piccolo spazio che mi hai concesso Camilla perché la domanda che però farò a tutti e tre preparate veramente al mente la risposta è quella del voglio davvero sapere che animale ciascuno di voi si sente che animale si sente più delle simbologie più della parte iconografica intimamente cosa si sente ma risponderete dopo io volevo soffermarmi un attimo però sulla lettura del lavoro sull'animale che questi tre artisti che abbiamo la fortuna di conoscere da tempo anche loro li seguiamo chi più chi meno siamo stati nei loro studi abbiamo seguito il loro percorso lo abbiamo apprezzato qualche volta lo abbiamo anche in qualche modo criticato però siamo in grado penso di darne una lettura parlo siamo un gruppetto di una dozzina e so che abbiamo la stessa sensibilità ad esempio mi sono fatto degli appunti mentre parlavate per villi per quello che dicevo ho avuto una conferma ho sempre o abbiamo sempre visto nella rappresentazione dell'animale da parte di villi l'animale come alter ego giudice è sempre qualcuno che sta domandando all'uomo quasi un cosa cavolo combini in tutte le espressioni che mette in campo rappresentando l'animale villi dà all'animale secondo noi questo ruolo di interrogare l'uomo di metterlo di fronte alle sue contraddizioni molto palese nella rappresentazione dell'elemento ambientale ma anche quando l'animale è preso assetticamente da solo lo stesso orso con i fiori in bocca che c'è sull'altare maggiore di San Barnaba dà quella sensazione è lì per domandare a noi a noi umani cosa cavolo stiamo facendo e di noi stessi e dell'ambiente che ci circonda per Aaron invece da sempre abbiamo avuto una grande suggestione quello che gli animali di Aaron siano testimoni muti non c'è mai un briciolo di aggressività quando si pensa al serpente tendenzialmente si ha o il timore quello reverenziale per intenderci o la necessità di rimanere distanti gli animali di Aaron non fanno paura sono comunque testimoni del fare dell'uomo ma non hanno mai un tono di aggressività qualunque sia la specie che viene rappresentata per cosa invece per Ivan io essendo stato in fucina e avendo visto Ivan che a un certo punto davanti a Luciano dice guarda papà che la mamma la te cerca ti devi inar perché dopo tre ore di colloquio con Ivan la necessità era quella di trovare un minimo di riservatezza per poter parlare tra di noi di cose molto normali quindi la necessità di dissociarsi un attimino dall'impronta paterna ecco io lo vedo straordinariamente presente nel lavoro di Ivan che non è un lavoro di dissociazione io non credo all'affermazione che tu hai fatto io ho scelto l'animale perché da quell'altra avevo la natura l'albero piuttosto che il frutto c'è una forza così particolare negli animali di Ivan dove molto personalmente io continuo a non vedere la forma il primo problema che ci si pone davanti a una scultura di Ivan non è quello di ricercare il punto di simbiosi con l'animale reale è quello di trovare sotto appunto queste specie di corazze l'anima vera o in questa immagine il mufflone io sono sardo per cui potete immaginare quanto sia legato al mufflone e il senso del lavoro sull'animale di Ivan è quello di svelarne in realtà non la forma ma l'anima detto questo che animale siete ciascuno di voi grazie Antonio intanto grazie mille per queste suggestioni io il primo che bello ci ho pensato a lungo io a sta cosa qua ho sempre cercato il mio animale guida non esiste 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 un animale che ti rappresenta e allora qui vado a prendere Esopo io ho fatto una mostra dedicata alle febbre di La Fontaine quindi Esopo come li usa gli animali prima il discorso degli animali come vengono usati vengono usati per rappresentare dei concetti o qualcosa di molto più complicato che un concetto che in parole impiegherebbe quasi un romanzo quindi come fai a esprimere questo un attimo io penso di essere la volpe e della volpe l'uva lo dico chiaramente credo che e qui le galleriste diventano un po' no no è molto bella diventano un po' psicologhe questa immagine è la Lorenza Lorenza Salomon la gallerista di Milano quando mi aveva proposto questa cosa mi ha detto te la senti di fare la mostra sulle fiabe di La Fontaine dammi un paio di giorni quindi vai a tirarti fuori le cose ti metti a leggere fai un ti rendi conto di fare un viaggio dentro te stesso di quelli ci mostriamo no nudi di più alla fine dico sì e lei mi risponde da psicologa e lei mi dice ti impongo la volpe e l'uva impongo a parte tutto il macello e il casino di riuscire a fare una cosa morbida con un materiale che morbido non è e sì armatura a forza di leggere e rileggerla sta fiaba pensarci e quant'altro in effetti io mi vedo come la volpe della volpe l'uva non so se è un animale l'animale che mi rappresenta ma è quello che secondo me in quella fiaba è quello che rappresenta di più il mio il mio essere a chi tocca Davide direi io non ho un animale guida che animale vi sentite anche nella sensualità della fortuna voi avete molta minorità non 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 dico questo non non ho mai pensato a questa cosa sinceramente però io ho un cane non ho mai avuto un cane è il primo cane che ho che abbiamo in famiglia insomma e mi mi ha insegnato insomma mi ha mi dà delle degli insegnamenti e poi il cane è buono un po' sono anche un po' così sono buono e tranquillo però sono anche un po' insomma attenti a cane cave canem cave david e così adesso davvero non avevo mai non avevo mai provato a mettermi dentro un animale insomma o a vedermi con un animale anche se gli animali mi piacciono però e allora adesso ho pensato questa cosa quindi potrei essere un cane grazie grazie billy anch'io non ho mai pensato come david che animale sì forse qualche volta adesso pensando così mi sento o un lupo o un lupo o anche ma forse l'orso meno ma anche qualcosa di orso insomma ma forse perché sono molto legato alla natura vado molto in montagna e sento che insomma i posti più 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 selvatici più dinni mi caricano veramente sì io ho adesso pensato altri animali ma ritorno sempre a uno di questi due bene quindi comunque c'è questo legame forte in tutti e tre anche col territorio montano in cui siete nati e cresciuti e che vivete quotidianamente c'è il legame anche con con il selvaggio più che col che col domestico quindi anche david tu che hai scelto diciamo il cane hai scelto anche l'aspetto lontano insomma l'aspetto più più selvatico del cane ecco che al momento giusto sa risvegliarsi bene allora non so se c'è qualche altra curiosità qualche altra domanda grazie veramente a tutti per l'attenzione e l'interazione grazie a voi per le vostre risposte per gli spunti anche che sono venuti fuori anche da voi che approfondirete penso insomma nella nella serata dell'undici giusto l'undici agosto e ho gli artisti abbiamo gli artisti presenti forse può sembrare una domanda banale però io me la sono fatta anche come dire quando collocavamo le opere le dislocavamo nel percorso comunque le analizzavamo e mi chiedevo appunto come a parte il fatto le biografie insomma e quello che si può conoscere per ciascun artista però quanto del valore simbolico antico degli animali che rappresentate c'è nella o lo impiegate nel momento in cui realizzate l'orso il lupo la volpe oppure se scegliete l'animale allora la mia domanda è quanto del valore simbolico antico dell'animale che andate a realizzare c'è nel momento in cui lo realizzate oppure è un'esigenza quindi scegliete quell'animale o quanto il valore simbolico come dire connota la vostra opera simbolico antico storico cioè potreste anche dire no non facciamo come dire una ricerca eh tipo quando con Marcello abbiamo fatto la mostra di Sanzeno il Mitreo è una testimonianza di questo in quel caso lì c'era la ricerca da parte mia di fare qualche cosa legato alla simbologia antica per rappresentare il la val di non nel territorio e quindi la popolazione eretica che aveva delle pratiche religiose e dei culti legati a questo però diciamo che c'è una grossa anche parte di casualità tu ne sei testimone col fatto del 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 Mitreo che è stato anche lì una magia come il passero anche il Mitreo è stato un momento di magico quindi c'è una cosa e c'è l'altra raccontacela beh io avevo allora io ero un privilegiato avevo un medievalista e un archeologo che non è qui stasera posso essere un privilegiato perché avevi gran paletti mettevano i paletti però mi risolvevano anche i casini dovevo fare questa allora io avevo letto del di un antico culto che veniva fatto qui in val di non che era quello della fertilità del territorio praticamente dove venivano portati a a macello praticamente venivano consacrati venivano sacrificati tre animali un montone una capra mi sembra e un e una scrofa ero partito in quel modo e dovevo fare dovevo fare il toro anche quello tutto un simbolo eccetera eccetera il toro mi metto a costruirlo e mi rendo conto di essere partito male però continuo a tirare avanti la cosa mi rendo conto che l'avevo fatto piccolo però vado avanti allora gli metto il collo gli metto il sottocollo gli metto una spalla gli metto l'altra spalla lo guardo bene mi incazzo lo prendo lo butto a terra e quello si posiziona e mi rendo conto che è qualcosa di mistico resto bloccato per mezza giornata o più finché mi decido gli faccio una fotografia e lo mando sul gruppo sul nostro gruppo questi si sono gasati hai fatto una rappresentazione antica del mitreo benedetto sia internet e google sono entrato in un mondo tutto diverso e ho trovato questa questa cosa meravigliosa che poi ritornando sugli astri ritornando sulle divinità ritornando sull'Egitto ritornando sulle divinità e i culti solari mi si è aperto un mondo ho continuato a studiare su questa cosa qua e in effetti lì non è più la rappresentazione dell'animale ma è la rappresentazione di un concetto e quando rappresenti un concetto superi la forma infatti dopo quel toro lì quando ho capito queste cose è partito non lo so non ho sbagliato un colpo continuavo ad andare avanti a come è che si dice a martel martel battente come è che si dice tabur battente tornando al fabbro non ho sbagliato un colpo è venuto il serpente e di conseguenza è venuto lo scorpione che sono tutte rappresentazioni degli astri alla fine dei conti roba strana la domanda la domanda l'ho fatta per quello che dice ma prima il fatto dell'opera è stato un miglior peggio rispetto al barbile il fatto che in questo caso è stata un'azienda però volevo capire quanto del significato storico dell'animale c'è nelle vostre opere quando decidete di rappresentare poi ho una domanda che dipende anche chi rappresentato quell'opera qualche il fatto che lui lo studio lo come dire lo costringeva in una gabbia quando invece la consapevolezza e la casualità comunque l'ha portata a uscire è venuta a fare un'opera che si certo ha in sé il significato però magari non è neanche tanto magari è più legato anche al contesto contemporaneo che vivete e altri significati che volete mettere ma anche per me qualche anno fa ho fatto una serie di sculture con dove c'è questo tema della maschera il tema della maschera però questa maschera in realtà è posta su un bastone e è più come una forma piatta che una maschera in realtà e poi ho voluto collegare questo bastone a un animale e in questo caso ho scelto il serpente perché riesce ad arrotolarsi sul bastone e in questo caso volevo rappresentare degli oggetti antichi diciamo come degli oggetti rituali e quindi ero immerso in questa cioè in questa riflessione su quello che era un qualcosa di lontano insomma ecco ecco poi un po' stasera venuta fuori c'è un che nel mio lavoro è un po' così io so quello che voglio fare però in realtà no perché è quando è finito che è pronto no poi la la scultura è complessa è molto difficile poi il mio lavoro è di piccolo medio formato non è grande come come gli altri miei colleghi e poi è proprio c'è un aspetto di quello che vuoi fare un aspetto estetico un aspetto dei tuoi interessi e poi c'è un aspetto tecnico e questo è molto importante e e questo ti porta a tutta la complessità della scultura quindi devi un po' capire quello che vuoi fare come collocarlo nella storia e cosa vuoi dire e poi comunque devi farlo fisicamente e forse il disegno ma anche il disegno ogni 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 c'è ogni tecnica ha la sua difficoltà ma la scultura secondo me è molto più difficile ecco perché poi la scultura è proprio una presenza fisica tu ci devi girare attorno a volte a volte puoi appenderla è più facile diciamo però però sì mi piace cercare di a volte forse fantasticare tornare indietro e pensare a queste cose che abbiamo dimenticato che però sentiamo che ancora ci appartengono e quindi poi il lavoro però è interessante questo aspetto del lavoro è una domanda un po' profonda questa forse come siete riusciti a legare il significato antico simbolico al contemporaneo ad altri temati che possono essere di l'interno descrizione naturalistica della realtà o che in realtà voleva essere una domanda provocazione anche per farlo un po' però ecco però anche perché prima la voce mi piaceva perché cittava ma non perché per l'intensità dell'assuncia per no prego sì io ritengo giusta la domanda io devo dire che non ho non ho grandi valori mitologici o simbolici ai miei animali forse adesso spiego l'ultima l'ultima esposizione appunto giù nella chiesa di Bondo lì la scelta non cioè il tema era l'Eden insomma il giardino quindi ho letto ho letto diverse cose sul tema in generale ma non mi sono approfondito sugli animali era ovvio che prendevo animali come come forse centro dell'opera nel giardino dell'Eden appunto è ovvio che ci sono hanno gli animali sono i protagonisti adesso la scelta per esempio sull'altare mi piaceva anche mettere animali sull'altare che non sono mai stati messi anzi mi è stato detto che sarebbe vietato mettere animali sull'altare invece per me era un altare profano insomma davo una certa sacralità al mondo animale cioè una certa sì una certa sacralità una certa religiosità ho scelto anche animali molto semplici potevo prendere non so il pavone o tutti animali simbolici molto belli mentre volevo prendere veramente animali cioè base base dall'asino che è proprio un animale non viene mai preso come come sforzo come non so come eletto sì il capriolo l'ho scelto come forse la parte più più libera ancora degli animali e il corvo forse l'unico è il corvo e dove c'è anche un po' più battuto la testa e forse il corvo perché il corvo ha più simbolegie appunto da noel il corvo è stato il primo animale che è stato annunziato nella bibbia è stato fatto uscire per vedere come è la situazione del appunto dell'acqua e appunto non è ritornato con niente quindi anche il corvo è lì a vedere insomma vediamo cosa 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 è lì a quel posto per vedere vediamo cosa ci ci dà a noi insomma mi piace molto quello che Antonio ha detto è vero i miei animali ci interrogano noi cioè ci fanno più una giudico ma comunque sì più o meno sì è più o meno quel discorso ritornando al al lavoro l'orso ho scelto non per simbologia anche io devo dire che io scelgo molto anche molto di intuito molto di pancia perché dopo studiandoci sopra qualche volta ci azzecco meglio che col con lo studio con la col sì l'orso era era ovvio in una zona vicino al Brenta dovevo mettere un animale veramente che esprime quel posto avete forse avete visto l'orso sputa questi fiori appunto forse è quello che dicevo anche prima che mi piace che mi piace forse più la parte forse più selvatica degli animali oggigiorno gli animali sono tutti troppo addomesticati ci sono cani che vengono rimpiazzati come bambini insomma si arriva veramente a situazioni estreme insomma io in quel lavoro volevo appunto adesso spiro sono più questi ragionamenti o questi pensieri che faccio più che mitologie antiche o cose del genere direi che se non avete altre domande si è si è detto molto cioè molto da sono le dieci e mezza non so cosa vogliamo fare vogliamo fare un giro alla mostra ok partiamo da qui e scendiamo scendiamo e risaliamo siamo siamo da qua va benissimo sì sì ok allora intanto grazie noi vi accompagniamo siamo a vostra disposizione anche con gli artisti e niente vi invitiamo a partecipare al prossimo evento l'11 agosto siamo ovviamente sempre qui e grazie mille della partecipazione grazie a tutti e agli artisti a Camilla a Marcello grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti